Conferma molte proposte già presenti nella precedente programmazione, ma presenta anche opere attese con particolare interesse dalla collettività. Il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Milazzo è stato approvato dal commissario straordinario Valerio De Ioannon, che svolge le funzioni del Consiglio Comunale. Alcune delle opere previste puntano ad una trasformazione del tessuto urbano. Basti pensare alle tre rotatorie che saranno realizzate in Via dei Mille, Piazza Roma e Piazza San Papino, oppure all'intersezione di Vaccarella tra la panoramica e la salita dei Cappuccini. Tutti i lavori previsti nel piano urbano del traffico. Rilevante è anche il recupero urbanistico ed ambientale di Ponente nell'ambito dell'itinerario turistico Tono Tonnarella, che è già ricevuto dalla regione siciliana l'assenso per un finanziamento di 3 milioni di euro. Sarà anche completato il palazzetto dello Sport e ristrutturato il depuratore. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede inoltre l'intervento di collegamento pedonale meccanizzato Vaccarella-Borgo, il sistema di convogliamento delle acque meteoriche della piana per la messa in sicurezza del territorio, l'integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione, la realizzazione di un sistema per il controllo automatico degli accessi nelle zone a traffico limitato e la videosorveglianza. Per il sindaco Carmelo Pino, al piano triennale va data una doppia interpretazione. Innanzitutto gli interventi che a breve e medio termine possono trovare attuazione e poi la previsione di quegli indirizzi che puntano al miglioramento della qualità della vita e dal soddisfacimento degli interessi della collettività.